Al quinto posto, abbiamo la AIO. Diffusore A. Forse non stai solo cercando il miglior umidificatore ad ultrasuoni sul mercato, tuttavia vorresti sicuramente che fosse un fantastico diffusore di profumi. Quindi quale scegliere tra molti umidificatori? Leggi qui. AIO ha infatti creato un umidificatore funzionale e anche sorprendente da controllare per gli spazi, tenendo anche presente quanto sia efficace l'aromaterapia. In realtà, puoi aggiungere diversi tipi di oli necessari al serbatoio di stoccaggio in base alle tue esigenze o al tuo umore e allo stesso tempo avere anche un'aria fresca e aromatica. Grazie alla risonanza ultrasonica che atomizza le particelle d'acqua, puoi anche beneficiare di una crema per la pelle. Sì, perché le microparticelle d'acqua passano attraverso la pelle e aiutano anche a ridurre i pori, la pelle secca e la ridotta luminosità. Al numero 4, abbiamo Tautronics umidificatore. Se stai cercando un umidificatore freddo ad ultrasuoni per grandi stanze, tuttavia non vuoi spendere un sacco di soldi, questo design di Tautronics è il migliore per te. Il filtro ceramico dell'umidificatore di alta qualità filtra l'acqua dai batteri e anche dalle impurità che possono essere pericolose per il benessere, esando un getto di vapore acque o fresco e anche ordinato nella loro zona. Questo umidificatore è molto silenzioso, il che lo rende perfetto per neonati e bambini, che non noteranno anche di averlo nella loro camera da letto mentre dormono. Al terzo posto, abbiamo la Philips U4803-01. Stai cercando un umidificatore ultrasonoro che sia piccolo oltre che pratico, in modo da non utilizzare la stanza dal tuo tavolo da lavoro o? Questo umidificatore Philips è davvero il migliore per le vostre esigenze. Dotato di tecnologia moderna Nanoclude con evaporazione naturale, è in grado di produrre il 99% in meno di germi rispetto agli ultrasuoni. La sua modalità automatizzata con sensore elettronico gli consente di gestire la quantità di umidità trasportata dall'aria e anche di accendersi proprio quando necessario. Se non ti piace la foschia regolare, non preoccuparti, questo umidificatore non genera vapore acqueo, quindi non devi preoccuparti di inumidire le superfici. Per una maggiore sicurezza, l'utensile si spegne automaticamente quando il filtro deve essere sostituito o il serbatoio caricato. Al numero 2, abbiamo il Tautronics umidificatore. Hai bisogno di un umidificatore ad ultrasuoni per atmosfere ultrasoniche, ma desideri che sia allo stesso modo un mobile? Tautronics ha effettivamente sviluppato il prodotto che potrebbe fornirti. Questa versione non è solo tra i migliori umidificatori ad ultrasuoni, ma molte grazie al suo design moderno e minimalista, finito in nero opaco, si adatta per decorare qualsiasi tipo di ambiente, sia per la residenza che per l'ufficio. Tra i punti salienti localizziamo la capacità di passare da un'evaporazione calda a una fredda, basandosi sulle vostre esigenze. Il getto di vapore emesso da questo umidificatore raggiunge i 38 indicatore ordinale maschile C in 30 minuti, accelerando l'umidificazione ma senza generare calore nell'ambiente. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il umidificatore ambiente. Scegliere l'umidificatore di area più efficace sul mercato con una qualità proporzione di costi superba e impegnativo. La buona notizia è che l'abbiamo localizzato per te. Questo umidificatore ad ultrasuoni Tautronics è perfetto per la casa, poiché è possibile stabilire il grado di umidità e gestire il grado di vaporizzazione. Il suo vaporizzatore freddo a cartuccia microporosa sarà sicuramente responsabile del filtraggio dell'acqua da microbi, magnesio e anche ioni di calcio, offrendoti un'evaporazione sana ed equilibrata. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Grazie per aver guardato il nostro video.